è proprio una giornata spettacolare oggi peccato non essere tutti assieme vero marco mamma mia in giornate così ne capitano una due ogni cent'anni mi sembra mamma mia è un unicorno non hai visto un unicorno che figata la mia in giornata No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.